Spostiamoci sulla griglia di partenza con le telecamere che ci mostrano i piloti mentre cercano la concentrazione prima dell'inizio di questa gara. Io sono già capito che si riusciti a Sì. Grazie a tutti. Il termas del Rio Hondo è tutto pronto per dare inizio alla gara e ora nella mente dei piloti c'è posto per un solo pensiero, essere primi al traguardo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.